Si apre il mese del Natale e del mercato invernale. Senza fiato e tra mille attese il primo dicembre regala un turno di categoria che promette euforia. Partenza coi fiocchi nel girone C, l'Ara Nova ospita il Bernocchi. Strizza gli occhi il Dragona di Giannetti. Mentre l'Isola Sacra andrà a Fiumicino, i suoi folletti gialloneri ospiteranno il Real Portuense per un turno incrociato come il Vischio Natalizio. Nessun rischio per il Cori. Per la testa del gruppo F, con lo Sporting Genzano, l'unica via è vincere. Appollaiato nella terra di mezzo, la Ironeardia si dirige a Grotta Ferrata per dare una sterzata verso l'alto. Piani analoghi per il città di Pomezia, in casa con la Fortitudo. E in seconda è Spettacolo. In casa contro il Campo di Carne, il Super Torvaianica prepara botti e fuochi d'artificio sotto la regia di Licata e Salotti. Ed è un mega scontro diretto tra Tor San Lorenzo e Campoverde. Cesarini contro Marella, Perilli e San Bataro, Vallo e Zotti. Un big match da non dormirci due notti. Ma non è finita. Mentre lo Sporting Nettuno va sul campo del Nuovo Cos Latina, per la cima della terza il sorprendente airclima si dirige alla macchiozza, puntando a piegare l'Enea nella sua sabbiosa arena. Nomen Omen, per Bomber Roberto, che guida l'attacco del Free Club contro il Chase, mentre il Montegiordano cerca il tuffo positivo sul Tre Fontane. È un calcio vivo, speciale, specialmente nel mese del Natale. Non lasciatelo scappare via. Godetevelo ancora una volta qui, in diretta tv su Pontina Calcio Show.